Nuova puntata è quella di ieri il 16 dicembre 2023 del Grande Fratello. Vediamo in maniera molto sintetica, ma non spiego efficace, quello che è accaduto nella puntata di ieri. L'eliminata è stata la bella attrice Sara Ricci, la famosa attrice per l'eccellenza, è lei che lascia dunque abbandonare la casa più spia in Italia, va bene? A salvare la pelle tra Beatrice, Sara, Vittorio, Grecia, Perla e per primo l'ingegnere. Signorini conduttori quindi continuano nella lettura del verdetto, fa sapere che purtroppo Sara è l'eliminata della puntata e quindi abbandona definitivamente il gioco. Tra bracci, baci, qualche piccolo lieve sassuio dalla scarpa che Sara ti ha tolta, l'attrice si è messa in condizione di salutare tutti e poi varcare la porta rossa che la porta direttamente a casa. I tre più nominati sono stati Marco, Federico e Greta e tra loro c'è il nome del primo candidato all'eliminazione. Tanti prefigli della casa, la donna più credita è Beatrice, Luzzi invece l'uomo è Massimiliano, poi ci sono Giuseppe, Letizia, Paolo e Rossi. La bella cesta da buon amici e l'opinionista ha premiato la volontà di ferro e il carattere di Luzanoma e quindi la fa tentare la preferita. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video oggi udenti di Youtube. Mi raccomando iscrivetevi al canale e ai commenti. Ciao a tutti e una buona sera.